Era già pronto a marzo ed oggi è stato finalmente aperto al traffico il nuovo cavalcavia di via Pisanica Marina di Pietrasanta, infrastruttura realizzata all'assalta nell'ambito del progetto da circa 11 milioni di euro che va a ridisegnare la viabilità collegata al casello Versilia. I lavori durati quasi due anni hanno risentito delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria e a ritardi sulla fornitura dei materiali, ritardi che si sono accumulati a quelli burocratici per il via libera all'apertura. Il collaudo era stato quasi cinque mesi fa, 77 metri di lunghezza, 14 e mezzo di larghezza, una pista ciclabile, due rotatori alle estremità per agevolare il traffico. Sì c'è avuto parecchio tempo perché il ministero, fatti che non riguardano l'amministrazione, legati ai collaudi, sia il collaudo statico del cavalcavia sia il collaudo, le analisi dei laboratori per quanto riguarda dei materiali. È un'opera molto attesa perché era anni che si parlava della via Pisanica, della variante della via Pisanica. È il secondo lotto della variante la via Pisanica che adesso però deve essere completata collegando la fine all'Aurelia e al sottopasso già realizzato negli anni 2000. L'arteria, una volta ultimata, allontanerà definitivamente il traffico pesante dal centro di Pietrasanta, alleggerendo la via Aurelia e il viale Apua dai camion del marmo che scendono dalle Apuane diretti in autostrada. L'abbiamo pensata molti anni fa, abbiamo inciso sulla concessionaria, attraverso il mio lavoro in commissione lavori pubblici sul ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il concessionario ha iniziato i lavori, questa oggi è una realtà. Due settimane fa abbiamo appostato a bilancio mezzo milione di euro per l'altro tratto mancante della via Pisanica, a valere su 3 milioni e 100 di intervento che sarà finanziato con la legge di bilancio. Faremo progetto esecutivo e definitivo faremo il bando per realizzare l'opera, quindi io credo che i lavori sicuramente partiranno fine 2023 e inizio 2024.